Siamo divertiti tutti, è veramente un capolavoro e vi ringrazio di averlo visto con me. Faccio una domanda io velocemente, ti sei piaciuta? Mamma mia, ogni volta ci sono tante cose che mi sarebbe piaciuto rifare, però credo che siamo usciti tutti a vivere questa atmosfera e questo film spettacolare. Per cui, insomma, come dicevo, mi ha ricoinvolto anche oggi. Allora, prima di vedere Akira, una domanda dal pubblico se c'è, se no salutiamo Emanuele. Scusami, la scena del pianto? Ma quando era nell'angolino? Che piangeva? No, quella del DT, no? Ecco, quella è la scena di cui parlavo prima che trovo che siano scene che soltanto i giapponesi ci sanno raccontare, perché il dolore di un momento del genere lo conosciamo tutti, ma la differenza la fa come io la racconto. E la scena di cui parlavo prima, quando io l'ho vista, mi sono messa a piangere. E quindi ho detto, ok, facciamola subito al volo. Io ancora avevo il magone, per cui, cioè, non è merito mio, è merito loro. Cioè, veramente, quando tu la vedi, non riesci a capire cosa succede, sei dentro, piangi. Cioè, sono contenta che si sia sentito. Grazie, Manuela, per averla seguita. Grazie a tutti. Tra 5 minuti iniziamo qui. Grazie ancora.